L'arte della conversazione di Benedetta Cravelli Vorrei parlarvi questa sera del ruolo determinante avuto dalle donne nella società mondana d'antico regime di cui stiamo raccontando la storia. Niente è in realtà più contraddittorio della condizione femminile nella Francia del 600 e del 700. Sul piano giuridico la donna dipende dall'autorità del padre e del marito, non può disporre di sé, non può disporre del suo denaro. A sua volta la chiesa la tratta con sospetto, continua a considerarla un'eva tentatrice, cerca di limitarne la sfera d'azione e la tiene lontana dalla cultura. Sul piano mondano, invece, la condizione di privilegio di cui gode la donna all'interno della società aristocratica costituisce un'eccezione in tutta l'Europa. Fin dai tempi della civiltà cortese, infatti, la donna della nobiltà è stata posta sopra un piedistallo e proprio sulla base della sua fragilità e della sua debolezza è oggetto della devozione e dell'ammirazione del cavaliere. L'esempio di Madame de Rambouillet è emblematico. Saranno le donne a dettare legge in fatto di cortesia e di eleganza, saranno le donne a stabilire l'uso esatto delle buone maniere, saranno le donne a insegnare l'onesta galanteria e saranno le donne a decidere dei piaceri e dei divertimenti della società mondana. Saranno le donne, cosa essenziale, a essere le maestre della lingua, saranno loro a costituire il punto di riferimento dell'uso corretto del francese e sarà la loro lingua, la lingua parlata dalle donne, a essere presa a modello nel grande dizionario dell'Accadémie française. Arbitre della vita mondana, le donne ne sono al tempo stesso le vittime. Le buone maniere costituiscono per loro uno scudo di protezione, ma, ad esempio, interdicono loro di coltivarsi, di studiare, di apprendere. Le buone maniere impongono infatti alle donne di nascondere il loro sapere, di non fare sfoggio della loro intelligenza e della loro cultura. Questa sofferenza per un'educazione negata emerge con chiarezza da una lettera di Madame de Pinay alla Bate Galiani. E' scritta nel 1771 da una donna, riconosciuta da tutti per la sua intelligenza, amica dei maggiori letterati dell'epoca e le stesse critiche e giornalista. Sono molto ignorante, ecco il punto. Tutta la mia educazione si è concentrata su ciò che poteva rendermi gradevole. Ne ho perduto l'uso. Non mi resta che qualche vaga conoscenza di quell'arte e il buonsenso, cosa rara ai giorni nostri ne convengo, ma di cui non vale tuttavia la pena di far mostra. La reputazione di una donna, bell'esprimi, sembra una presa in giro, inventata dagli uomini, per vendicarsi del fatto che generalmente le donne hanno uno spirito più gradevole del loro. Tanto più che si associa quasi sempre a questo epiteto, l'idea di una donna sapiente, e la più sapiente delle donne, non ha e non può avere che delle conoscenze estremamente superficiali. Sostengo dunque che una donna, per il fatto d'essere donna, non ha la possibilità di acquisirne di abbastanza estese per essere utile ai suoi simili, e mi sembra che solo da quello sia possibile menare ragionevolmente vanto. Per poter far uso utilmente delle proprie conoscenze, di qualunque genere esse siano, bisogna poter unire la pratica alla teoria. Senza questo si hanno solo delle nozioni imperfette. Concludiamo dunque da tutto ciò che una donna ha torto e si espone solo al ridicolo quando si spaccia per sapiente o per bell'esprit, e crede di poter difendere questa sua reputazione, ma che ha più che mai ragione nell'apprendere il maggior numero di conoscenze possibili. Ha più che mai ragione, espletati i doveri di madre, di figlia, di sposa, di dedicarsi allo studio o al lavoro, perché è un modo sicuro di bastare a se stessi, di essere libera e indipendente, di consolarsi dalle ingiustizie della sorte e degli uomini, che ci testimoniano il massimo dell'attenzione e della considerazione, quando meno se ne sente il bisogno. L'intelligenza, lo spirito, la grazia, la bellezza, delle maniere perfette, una conversazione squisita, erano state le sole risorse della incredibile ascesa sociale di Madame de Maintenon. Nipote del grande poeta uganotto Agrippa Dobigny, François Dobigny era nata in una prigione, dove suo padre era rinchiuso per debiti. Rimasta orfana molto presto, si era sposata a sedici anni, per non entrare in convento, con Paul Scaron, famoso poeta libertino dell'epoca, noto per la sua intelligenza, ma squatrinato e completamente paralizzato da un'artrosi deformante. Rimasta vedova a venticinque anni, la vedova Scaron era riuscita a essere ammessa nella miglior società parigina del tempo, era diventata amica di la Rochefoucault, di Madame de Lafayette, di Madame de Sévigny, mantenendo la sua reputazione intatta. Frequentando i salotti parigini, aveva conosciuto Madame de Montespan, l'amante in carica di Luigi XIV, che le aveva affidato il compito di allevare i figli legittimi che aveva avuto con il re. Ma quando Luigi XIV l'aveva conosciuta, l'aveva voluta a corte, ne aveva fatto la sua amante, le aveva dato il nome di Madame de Maintenon e il marchesato che lo accompagnava, e finalmente, alla morte della regina, ne aveva fatto la sua sposa segreta, la sua sposa morganatica, e gli aveva affidato la cura di riconciliarlo con Dio, di riportarlo sulla via della religione. Eppure, arrivata al sommo della piramide sociale, Madame de Maintenon non riusciva a conservare la bella reputazione a cui aveva tenuto per tutta la vita. Prigioniera di Versailles, in una situazione ambigua, non riconosciuta, doveva voltare le spalle alle regole della mondanità e recitare un falso personaggio. La satira l'avrebbe infatti dipinta come un'ipocrita, come un tartuffe. E questo emerge con chiarezza nel perfido ritratto che le ha dedicato Saint-Simon. Era una donna di molto spirito, che le migliori compagnie dove era stata da prima tollerata e di cui presto aveva fatto il piacere, avevano raffinato e perfezionato nella scienza del mondo e che la galanteria aveva finito per rendere ancora più gradevole. Le diverse condizioni in cui si era trovata a vivere l'avevano resa adulatrice, compiacente, e sempre attenta a piacere. Una grazia incomparabile in tutto, un'area disinvolta, e tuttavia piena di modesti e di rispetto, attitudine ormai naturale dopo tanti anni di vita subalterna, mettevano meravigliosamente in valore i suoi talenti. A questo si aggiungeva un linguaggio dolce, preciso, con un'eccellente scelta dei termini e naturalmente eloquente e conciso. La sua stagione migliore per chi aveva tre o quattro anni più del re era stata quella delle belle conversazioni, della bella galanteria, in una parola di quelle che chiamavano le Ruel, e il suo spirito ne era stato così fortemente influenzato che ne aveva sempre conservato il gusto e l'impronta. Il tono prezioso e affettato, che caratterizzava un po' il gusto dell'epoca, a cui era rimasta fedele, si era accentuato con la vernice dell'importanza e si accrebbe con quello della devozione che diventò il carattere dominante e che sembrò assorbire tutto il resto. L'era di importanza capitale per mantenersi là dove era arrivata e lo fu ugualmente per governare. Quest'ultimo punto è stato la sua ragion d'essere. Tutto il resto gli venne sacrificato senza riserve. Si dice che il Seicento sia il secolo che ha inventato l'esprit, parola difficile che comporta una gamma amplissima di significati che vanno da quello spirituale, a quello intellettuale, a quello giocoso, a quello brillante. L'esprit era comunque l'ingrediente necessario per avere successo in società e doveva adattarsi ai tempi, ai luoghi e alle persone. Nel Settecento diventava oggetto di un vero e proprio culto. Aveva fatto la fortuna di Voiture, aveva creato il successo di Madame de Sévigné, diventerà sotto la pena di Voltaire un'arma micidiale. Ma fino allora una patente di esprit non aveva mai avuto il potere di cambiare lo statuto sociale di una persona. E quanto era successo invece all'inizio del Settecento a Mamosè de L'Honé, una ragazza intelligente colta, ma orfana e povera, che era dovuta entrare al servizio della duchessa del Men con le mansioni di Oscura Cameriera. Era stata una letterina a Fontenelle a cambiarle la vita. Mamosè de L'Honé aveva saputo che si parlava molto a Parigi di una certa Mamosè Tétard in contatto con gli spiriti che Fontenelle aveva onorato di una sua visita, nonostante facesse professione ufficiale di scetticismo e fosse uno dei padrini del razionalismo. Sarà l'autrice stessa della lettera a spiegarne il successo nelle sue memorie. La lettera ha incuriosito e interessato perché aveva il dono dell'à propos, aveva il senso della pertinenza, il senso dell'opportunità. Mantenendo un tono lieve e scherzoso, infatti, Mamosè de L'Honé aveva saputo fare riferimento al dibattito intellettuale del momento che vedeva contrapporsi fautori della tradizione e fautori della modernità di cui Fontenelle era il capofila, mantenendo al tempo stesso un tono giocoso e riuscendo a adulare Fontenelle. La propos è in effetti una delle tante figure retoriche che fanno parte di questa cultura mondana. Come le bienseance e come l'esprit, la propos deve rispettare i tempi, i luoghi e le persone e deve sapere sintonizzarsi con la sensibilità e con lo spirito degli interlocutori. Ma sentiamo questa lettera che cambia la condizione sociale di Mamosè de L'Honé. La vicenda di Mamosè de L'Honé ha fatto minor baccano, signore, del vostro parere in proposito. La varietà di giudizi che esso ha suscitato mi spinge a parlarvene. Ci stupisce, e forse non senza ragione, che il demolitore di oracoli, colui che ha rovesciato il tripode delle Sibille, si sia prostrato davanti al letto di Mamosè Tétard. Sia un bel dire, come alcuni hanno fatto, che è stato l'incanto e non gli incantesimi della damigella a indurvelo. Un filosofo non dovrebbe cedere né all'uno né agli altri, sicché tutti ne parlano. Come, dicono i critici, quest'uomo che ha messo così bene in luce certi inganni perpetrati a mille leghe di distanza e più di duemila anni or sono, non è riuscito a scoprire un trucco eseguito sotto i suoi occhi? I culturi dell'antichità, animati da un vecchio risentimento, vengono alla carica. Vedrete, dicono, che vorrà situare i nuovi prodigi al di sopra di quelli antichi. Infine, i più sottili affermano che da buon pironiano, pur dubitando di tutto, credete tutto possibile. Per parte loro i devoti sembrano molto edificati dall'omaggio che avete reso al diavolo. Sperano che la cosa possa portare più lontano. Anche le donne vi sono grate della scarsa diffidenza che avete mostrato verso gli artifici del sesso. Quanto a me, signore, sospendo il mio giudizio nell'attesa di vederci più chiaro. Mi limito ad osservare che l'attenzione particolare con cui si seguono fin le minime tra le vostre azioni è una prova incontestabile della stima che la gente ha per voi. E trovo fianco nelle sue critiche qualcosa di abbastanza lusinghiero da non farmi temere che sia un'indiscrezione riferirvele. Se volete ricambiare la mia schiettezza con la vostra vi prometto di farne buon uso. Ho l'onore di essere eccetera, eccetera, eccetera. Il successo della lettera aveva fatto sì che la duchessa del men si accorgesse dell'esistenza della sua oscura cameriera. Aveva preso gusto alla sua conversazione e per ovviare a dei problemi d'etichetta e averla sempre con sé l'aveva fatta sposare a un ufficiale di suo marito, Monsieur de Stal. Il matrimonio non sarebbe stato felice, un matrimonio malinconico e senza amore, ma Madame de Stal de L'Honé avrebbe contribuito con la sua intelligenza a creare il primo grande centro mondano del Settecento. Era invece l'esprit nella sua valenza intellettuale a riscattare Madame de Tensin da un'esistenza piena di scandali. Quella che Diderot chiamerà la scellerata canonichessa de Tensin è la prima grande vittoria dell'intelligenza sulla rispettabilità. Madame de Tensin avrà un salotto intellettuale tra i più importanti della Parigi del Settecento. Madame de Tensin era stata monacata a forza da un padre tirannico, si era liberata dai voti seducendo il suo confessore, aveva partecipato a tutti gli scandali della regenza, il suo ultimo amante si era ammazzato a casa sua accusandola di averlo derubato, aveva infine abbandonato sul sagrato di una chiesa un figlio illegittimo che diventerà poi il celebre scrittore d'Alembert. Il successo del salotto intellettuale di Madame de Tensin che sarà frequentato dagli scrittori più importanti della prima metà del Settecento era dovuto soprattutto alla personalità della sua padrona di casa, alla sua grande intelligenza. È nel suo salotto che nasce una nuova forma di socievolezza, la socievolezza dei lumi dove la conversazione non deve più soltanto divertire e svagare ma è diventata uno scambio intellettuale fra uguali. ascoltiamo il ritratto che ne ha lasciato il grande Marivaux frequentatore del suo salotto che l'ha ritratta sotto il nome di Madame d'Orsan. A casa sua non era questione né di rango né di condizione. Nessuno si ricordava della sua maggiore o minore importanza. Erano uomini che parlavano ad altri uomini e tra di loro solo le ragioni migliori avevano la meglio su quelle più deboli. Nient'altro che questo. o se volete che vi dica una grande parola essi erano come delle intelligenze allo stato puro tra cui non era più questione dei titoli conferiti qua giù dal caso e non credevano che le loro cariche fortuite dovessero umiliare gli uni o inorgogliere gli altri. Ecco come la si pensava a casa di Madame d'Orsan ecco come si diventava con lei contagiati da questo suo modo di pensare ragionevole e filosofico che come vi ho detto lei era proprio e che faceva sì che tutti fossero filosofi. Agli inizi del settecento l'esprit era riuscito a promuovere socialmente Madame de Stadellonet ma non era riuscito a affrancarla dalla tirannide della duchessa del Maine. Cinquant'anni dopo la forza del prestigio intellettuale procurerà invece l'indipendenza a Julie de l'Espinas. Quando nel 1766 Julie de l'Espinas era stata cacciata dalla casa della Marchesa di Desson le dame dell'alta società parigina avevano fatto a gara per costituirle un vitalizio e per consentirle di andare a vivere da sola in modo indipendente e di aprire un salotto tutto per sé. Una cortesia squisita una grande delicatezza di tatto una intelligenza appassionata una sensibilità vibrante avevano fatto della oscura ragazza venuta dalla campagna una vedette dei lumi. Quella che ascolteremo ora è la testimonianza di Marmontel un ritratto che spiega come la seduzione verbale di Julie avesse incantato tutta una società. Aveva preso i suoi ospiti qua e là in società ma così ben assortiti che quando erano con lei costituivano un insieme armonioso come le corde di uno strumento montato da un'abile mano e continuando nel paragone potrei dire che suonava questo strumento con un'arte sconfinante con la genialità sembrava sapere quale suono avrebbe messo la corda che stava per toccare intendo dire che conosceva talmente bene le nostre intelligenze i nostri caratteri che le bastava una parola per farle reagire in nessun altro posto la conversazione era più viva più brillante e meglio regolata che da lei era davvero un fenomeno raro quella gradazione di calore temperata e costante che lei sapeva mantenere sempre uguale ora moderandola ora alimentandola l'interrotta attività della sua anima si comunicava alle nostre ma con misura essa era mossa dall'immaginazione e regolata dalla ragione e badate bene che le menti che rispondevano alle sue sollecitazioni non erano né deboli né leggere ne facevano parte i condigliati i turgot e d'Alembert quando lei era accanto aveva l'aria di un semplice e docile bambino il suo talento di lanciare uno spunto di riflessione e di lasciarlo discutere a degli uomini di quel valore il suo talento di discutere lei stessa come loro con precisione talvolta con eloquenza il suo talento di proporre delle idee nuove e di variare la discussione sempre con la naturalezza e la facilità di una fata che con un colpo di bacchetta cambia a suo piacimento lo scenario dei suoi incantesimi questo talento io dico non era quello di una donna qualunque si conclude così la trasmissione di stasera vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani